Perfetto SF- Perfetto Parla! Sei stato tu a se... Quali bevande mi farai assaggiare oggi, Kong? Nessuna, finché Luca non mi ridarà la cassa. Ma se siete qui per comprare del tè, ho molti consigli. Kong! Sono io, Basim! Chi sareste? Chi? Basim! Non sono un idiota. Tutti dicono di essere qualcuno che conosco. Allo, rispondete. Quale tè piaceva al mio, Basim? Allo zenzero, con della curcuma. Sbagliato! Basim odia il tè. Basim, guardati, fringuellino. Tutto vestito bene. Vieni, vieni. Seguimi al mio banco, lontano da questo furfante. Allora, fringuellino, che cosa mi racconti? Eh? Sono passati anni. Ho fatto questo e quello. E ho dovuto lasciare Bagdad per un po'. Ah, voi giovani. E tu? Cosa mi dici, Kong? Che hai fatto in tutti questi anni? Quello che so fare meglio? Guadagnare! Ma anche se un po' meno di recente. Le guardie sono sempre allerta e quel mercante greco si è preso la briga di segnalarmi ad ogni occasione. Me lo sento fin nelle ossa che vorrebbe ridurmi alla fame. O, peggio, a chiudere la mia attività. Ah, ma ora ci sei tu qui, fringuellino. Ricordi come eravamo affiatati noi due. Perché non mi aiuti in nome dei vecchi tempi? Eh, in nome dei vecchi tempi. Ma sappi che poi ti dovrò parlare. Anch'io ho bisogno di qualcosa. Ma certo! Dopo che avrai recuperato la mia cassa di bellissime foglie. Deve essere laggiù dove ci sono le guardie. Ora va! Bene. Ma anch'io dovrò chiederti qualcosa poi. Sì, sì, ma certo. Non puoi stare qui. Non sei il benvenuto qui. No, non sei il benvenuto qui. Non puoi stare qui. Non puoi stare qui. Non puoi stare qui. E ora? Un sanguina! Eh? Eh? Chi è? Così buona il fai. Ehi, ma che... Deve essere la cassa di foglie di tè di Kong. Sembra che la cassa sia intatta. Kong ne sarà felice. Ehi, ma che... o no? O, le mie foglie! Sia lode a te, fringuellino. Dove devo metterla? Vieni, vieni, mettila qui. Basim non delude mai. Molte grazie, fringuellino. Da dove arrivano? Dall'India? No, arrivano dritte dalla Cina. Da lì, la mia città, produce le foglie migliori. Ne importo altre dall'India, persino dalla Persia. Kong alla conquista del mondo. Prima di Kark, poi del mondo. Andrò a vendere la mia merce alla grande asta. Ne hai sentito parlare? Il Dairat al Mal. Sì, cerco il modo di entrare. Perché ti sei dato agli affari anche tu, fringuellino? Perché non me ne parli? Abbiamo sempre lavorato bene insieme. È il tipo di affari che può farti finire in grossi guai. Credi di potermi aiutare a entrare all'asta? Ah, il solito Basim, sempre pieno di segreti. Ma fa' attenzione, d'accordo? Kark è un distretto ben più pericoloso adesso. L'asta è molto esclusiva. Non è facile entrare. Io posso aiutarti, fringuellino. Ma prima ho una richiesta. Guarda, tutto bloccato. Le guardie fermano tutto ciò che arriva via strada e via fiume. È come se avessero ricevuto ordini da un superiore. Ormai non riesco più neanche a corromperli. Credo che stiano cercando qualcosa. Un oggetto. Non ne ho la più pallida idea. Ma mi rovinano gli affari, questo è certo. Ora riesco a vendere solo acqua profumata. Ho sentito che portano tutta la merce nel deposito protetto del Mastro di Porto, a est di qui. Fammi indovinare. Vuoi che io ti aiuti a recuperare la merce in cambio del mio ingresso all'asta? Intorno al deposito vedrai dei vissilli e alcuni argani. La mia merce in cambio del tuo ingresso. Che ne dici, affare fatto? Affare fatto. Ehi tu, amico di Kong. Credo di avere qualcosa che può interessarti. Avvicinati. Cosa posso fare per te? Cosa posso fare io per te? Kong ti ha chiesto di entrare in un deposito? Di quel che hai da dire e basta. Quel Kong ci prova sempre. Ma è il suo giorno fortunato perché si dà il caso che io sappia dov'è. Voglio solo qualcosa in cambio. Dimmi ciò che sai. Segui la strada attraverso il ponte a destra e passato il fiume vedrai il deposito alla tua sinistra. Ora so dove andare. Grazie. Grazie. Sono battuto contro quei guerrieri dai capelli di onde. Grazie a tutti. 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 Il deposito di cui parlava Kong. Ora devo scoprire qualcosa sul nostro intervento. Non diventerai mai. Facciamo il nostro lavoro e non ce ne pentiremo. Niente da... Cosa sta succedendo? Cosa? Valle detto cuoio, sono pieno di vesciche. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.